A Guida Viaggi Web TV c'è Marco Rostelli, responsabile commerciale di Napoleon Tour Operator. Ci spiega del vantaggio di pacchettizzazione con il traghetto che da sempre è un plus del Tour Operator toscano. Vero Marco? Esatto, intanto buongiorno a tutti. Allora sì, uno degli argomenti sicuramente forti per quanto riguarda Napoleon è indiscutibilmente la pacchettizzazione con quello che è il soggiorno abbinato a quello che è il traghetto. Per il semplice fatto che noi sia sull'Elba che sulla Sardegna abbiamo a disposizione praticamente per tutte le stagionalità quelle che sono delle tariffe Tour Operator. Tariffe Tour Operator che danno l'opportunità al cliente di avere un grosso risparmio e altrettanto a quello che è l'agente di viaggio di offrire al proprio cliente un pacchetto interessante in termini economici e di conseguenza interessante talvolta anche rispetto a quello che può essere un prezzo o una soluzione che può trovare direttamente con una struttura. Come prodotto una cosa che ci differenzia rispetto a quelli che sono ad esempio i classici villaggisti soprattutto sulla Sardegna è quello che noi abbiamo puntato alla nostra attenzione e soprattutto quello che è il restante del prodotto quindi quelli che sono hotel dai 2 stelle ai 5 stelle passato per il residence e anche soluzioni in appartamento. Un altro punto che mi sento di andare a sottolineare è quello che soprattutto sulla Sardegna abbiamo ormai da diversi anni liberalizzato quelli che sono i soggiorni nei classici vincoli sabato-sabato piuttosto che pacchettizzazioni sabato-mercoledì o mercoledì-sabato cose di questo genere dando la possibilità al cliente finale e quindi alla gente di andare a prenotare soggiorni totalmente liberi sia per durata che per ingresso che per uscita.